Buongiorno a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi recensiremo delle luci portatili della WeLight S05. Se non l'avete visto, WeLight è lo stesso brand di cui abbiamo già recensito un'altra luce studio, non chiaramente portabile con la batteria come queste, molto molto potente, che è la luce anche che stiamo utilizzando per illuminare questo set qua. Trovate il link per vederlo in descrizione. Il prodotto di oggi invece è l'S05, una luce molto più portabile, ne abbiamo prese due per farvi vedere anche la caratteristica che si può fare. E' una luce, come dicevo, con una batteria integrata da 2000 mAh, una vite per il cavalletto per poterlo appunto attaccare su un stativo e la ricarica tramite porte USB-C, quindi il nuovo standard di porte molto comodo e molto attuale. È disponibile, come potete vedere, dalla scatola in quattro colori, c'è in questo giallo-arancione, bianca, blu oppure grigia. Noi abbiamo ricevuto grigia e arancione appunto. Il funzionamento è molto semplice, come vedete appunto ci sono quattro tastini e un piccolo schermino. Cliccando il primo pulsante si va ad accenderla e già funziona. Come potete vedere, dallo schermo abbiamo due informazioni. L'intensità luminosa, con le freccettine posso andare a aumentarla o diminuirla. Classico. Sulla destra ho chiaramente la percentuale di batteria. Cliccando invece M passo di qua dove posso andare a raffreddare fino a 6800 o riscaldare fino a 2800 K la temperatura colore. Quindi molto carino. Tenendo invece premuto M si va a cambiare tra dei vari settaggi o comunque tipologie di luce che possono fare. Divide in RGB più bianco dove posso singolo canale per singolo canale decidere che percentuale di quel canale avere. Quindi adesso ho sul rosso 100 rosso. Come potete vedere la luce è molto rossa ma posso anche andare a dargli dentro una componentistica blu ad esempio. Così ho fatto rosso e blu e l'ho portata al viola. Quindi è molto adattabile su ogni situazione. Premendo ancora ha un'altra serie di set di luci che può fare o anche una serie di effetti speciali. Chiamiamoli così. Come l'SOS. Oppure il lume di candela. Fuoco. Insomma una serie di effetti che potete giocarci dentro e trovarne molti. C'è la sirena della polizia. È molto simpatica e carina. Si possono creare cose simpatiche. Dunque anche la modalità festa se volete attaccarle due in una stanza durante una festa di compleanno o un qualche evento fa questo effetto molto simpatico. Chiaramente si può andare a regolare l'intensità luminosa e possono essere lasciate collegate con la porta USB-C mentre vanno per evitare che si scarichino. Hanno dei forrellini per dissipare. Non hanno una ventola quindi è raffreddamento passivo. Sono molto leggere. Sono secondo me meno di 200 grammi. Molto carine. Lo rimettiamoli in una luce statica più tranquilla. Una cosa che le rende molto molto comode a mio avviso è l'applicazione per smartphone. Vi faccio vedere. Adesso andiamo a spegnere la luce. Con l'applicazione WeLight Pro invece ci permette di accenderle entrambe contemporaneamente. Come potete vedere si sono accese insieme. E posso da qui andare a settare la luminosità per entrambe. L'intensità colore chiaramente. O tutte le scene che prima vi ho mostrato. Quindi gli effetti speciali. Quale le sirene dell'ambulanza. Club. Chiaramente potendo regolare la velocità di cambio e l'intensità luminosa. E l'altra funzione che trovo fantastica. Adesso mettiamo qualcosa di meno fastidioso. Ok. Potete creare dei gruppi con una temperatura prestabilita e rinominarli. Ma la cosa che trovo fantastica è il color picker. Ovvero lui avvierà la telecamera del telefono. E in base a quello che inquadrate della scena. Lui andrà a ricreare quel colore. O se no potete anche dalla galleria del telefono. Selezionare una foto. E lui andrà a usare quella foto per fare una luce di questo set. Su un puntino. Vedete qua sul puntino posso andare a dire che punto. Qui il tramonto rosso. La montagna. Gli alberi. E così via. Questa è una funzione molto simpatica e carina. Possono essere gestite fino a 50 luci con questo gruppo. O creare dei sottogruppi alternativi. Per gestirne alcune in un modo. E altre in un altro. Però appunto a mio avviso questo è veramente comodo. Aver due luci sincronizzate. Con la stessa intensità luminosa. Con la stessa temperatura colore. Molto molto bello. E da qui si possono spegnere entrambi insieme. Quindi per questa recensione della Weelite S05 è tutto. Un prodotto sicuramente comodo. Molto tascabile. Molto portabile. Lo porteremo in giro con noi nei nostri prossimi viaggi. Se vi è piaciuto il prodotto trovate le informazioni su dove acquistarlo nel link in descrizione. E fateci sapere cosa ne pensate. Un saluto da The Italian Maker.